Dai che la giornata un attimo, subito lo parlo con l'iscio di dicembre e iniziamo con la scivolata alla Franco Baresi del portiere Minchillo Viciani Un incredibile recupero di Rocchi Vitali in contropiede Tutte subito le ricezioni della Civita Lad Di Gennaro Giulie De Benedictis De Benedictis e Giulie Scudi del Santa Maniella Ancora De Benedictis Bociagova Il nuovo acquisto dalla Lettonia Arutunovs Chiudiamo con Giulie Furlanetto Ciao No 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 Grazie a tutti.